buongiorno sono narita morelli e angela satalino di remax stella volare oggi ci troviamo a capitolo in una delle spiagge più belle del litorale pugliese e stiamo qui per andiamo a visionare un immobile meraviglioso nella contrada la mandia a due passi da questo mare andiamo a vederlo andiamo eccoci siamo nel cortile antistante questa meravigliosa struttura con gli alberi di olivo che ci circondano e a due passi dal mare non so se avete notato gli esterni di questa masseria sono tutti in pietra tipica espressione della nostra amata puglia mentre voi guardate all'interno noi vi aspettiamo sul terrazzo seguiteci questa caratteristica struttura si compone di 5 vani più doppi servizi con dependenza annessa ogni ambiente è imprezzesito dalla particolarità delle volte con una semplice ristrutturazione è facile ottenere una splendida struttura ricettiva a completare abbiamo a servizio circa un ettaro di terreno ideale per accogliere una piscina e spazi verdi per i vostri ospiti siamo sul terrazzo con questa meravigliosa vista panoramica immaginate la prima colazione qui al mattino prima di andare al mare questa è veramente un'ottima occasione non ve la fate sfuggire chiamateci subito ciao